E si, ci siamo ancora, mentre tutti si aspettavano una puntata best of, cioè la puntata 80, noi sorprendentemente siamo ancora in diretta live, questa volta anche col cappellone che qui vicino a me è tornato, come mai mi sei venuto l'altra volta, a nevicava, stranamente. Giusto quel metro di neve che mi ha impedito di essere con voi, cari. Stranamente, stranamente, di martedì ne succedono di ogni e con nani e ballerine prostitute, come si dice, abbiamo anche il gollo quest'oggi con noi, perché oltre al gollo, inoltre, abbiamo il Simon da Parma, ciao Simon. Buonasera a tutti. Ciao carissimo, molto bene, ho visto che hai fatto i tuoi compitini soliti e sei stato anche molto bravo, perché oltre ad avere un nutrito gruppo di persone che ci ascoltano live, che ci stanno anche vedendo dal sito e ci salutiamo su amiciamici.com, tu hai fatto i tuoi compiti e sei riuscito a portare ad incrementare di uno, come si dice, anche chi è distante da noi, chi è in Erasmus, intanto la base è partita, molto bene, io sono un po' in panico per adolescenziale, tra l'altro, come mi dimostrano anche i miei gruppi. Non avere l'ansia da prestazione. L'ansia da prestazione è come succede spesso quando abbiamo 735 ospiti e, tra l'altro, ti dico subito e vi dico subito a chi ci ascolta che è impossibile che non ci siano problemi, perché di solito qualche sfiga capita sempre e sto parlando soprattutto del cavo Ethernet che collega il nostro amico a Barma, ma così giusto per fare un esempio. Anche perché ricordiamo che il nostro ospite sarà collegato tramite me e se cadrò io cadranno tutti, però questo è pure il rischio di andare a direttore. A tal proposito, tu lo sai che io ti amo e ti stimo tantissimo, vorrei ricordare ai pochi che non hanno ancora ascoltato che tu hai fatto tu una creatura, hai partorito a tua volta una creatura mostruosa, così che vorrei far sentire soltanto un minuto che è questa cosa bellissima, perché rimanga nella memoria di tutti. Che parole, che feste! Se cambi un po' l'agenda puoi farcela anche tu, il podcast serve a questo, a tenerti compagnia, collegati al sito, la sera e il martedì, alza a stecca l'audio, devo andare a scoprire via. È un delirio che andiamo a sfumare, grazie Simo, grazie Simo sei sempre il migliore, ma oggi ti tocca, lo sai, perché dopo toccherà a te, passerà a te la palla della conduzione. È sempre un piacere condurre le palle, guarda. portare le palle in campo o in altura di arrivo c'è chi gioca a golf c'è chi gioca a pallacanestro ma io giocherò a ping pong o a biliardo occhio ai colpi da dietro palle piccole ma stecche lunghe buche larghe soprattutto è più facile giocare o lo so che gioca carambola lui gioca carambola col tavolo senza cupe questo sono fatto poi è tristissima la tristezza scende nei nostri cuori e io sono portato a chiedere a ragazzi qualche abbraccio perché lo sento mio, lo sento vivo qui vicino a me come è passato una settimana senza il podcast noi ci siamo stati senza per anni perché il best of era diventato una cosa impegnativa tanto che preferiamo fare una puntata in più cioè questa puntata 80 dovremmo intrufolare da qualche parte il best of appena pronto dovremmo intersecare interagire a questo punto io direi che l'ideale sarebbe fare un best of anche chi ci ascolta e ci segue penso che sia d'accordo un best of della stagione ogni volta che piantiamo lì facciamo un best of ma comunque questo lo sapremo soltanto vivendo viene un po' lungo come best of te fatti i cazzi tuoi che non hai mai partecipato alla stesura alla realizzazione non ti voglio non ti voglio perché per una volta posso non averti e scelgo di non averti siamo già due stai attento che la tua sedia è una postazione molto scoperta ma la postazione l'obra chi non ce l'hai lo so carissimo e quindi io martedì scorso ho cercato fino all'ultimo minuto di essere dei vostri ma c'era giusto quel pellettino di neve che fracassava ma l'immortacci tua allora ragazzi ascoltatemi bene abbiamo come al solito i soliti quattro brani sempre una volta sempre una volta che mette il DJ che sta qua sotto sotto la nostra postazione lo facciamo agire e non vi dico cosa fa io lo farei agire anche perché dopo per l'ennesima volta e l'ennesima sorpresa che abbiamo noi poi alla fine il Simon chiamerà in diretta il suo ospite dopo sigle e cose varie perché abbiamo un collegamento incredibile ma vero oltre che con Parma quest'oggi ci colleghiamo con Valencia e non vi diciamo di più perché dopo scopriremo c'è il Gran Premio? c'è il Gran Premio di Valencia tra l'allero tra l'allà e si dice Simon ti senti pronto? per cosa? no perché sai che tu il Gran Premio devi agire nell'ombra per noi per quello che succederà tra un po' dovrei essere la nostra talpa te tra l'altro hai 2 minuti e 55 secondi per agire va bene agiscono se no lo puoi fare anche dopo in diretta ma te ne assumi le tue responsabilità naturalmente subito dopo il primo brano va bene perfetto allora noi partiamo sempre a si sproma tutto tamburo battente va bene caro si electric touch sound of the under no sound from the under now come from the bottom right to the top we gotta fire and all we need is a spark and you hear me screaming shouting out you've got the walls and we'll knock them all down down break the silence we are the scars we are the scars we are right what's out of you on the second sun is ready to go we're the load again a friend or foe we are the Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che trick e track, che trick e track, siamo tornati ancora. Primo brano, hai detto già il titolo perché ti sentivi un po' in imbarazzo. Ti sentivo un po' elettrico. Ti sentivo un po' elettrico. Tra l'altro ci sentiamo un po' tutti elettrici proprio perché adesso dobbiamo andare a lanciare la rubrichina pensata, realizzata, evoluta e condotta tra l'altro anche da Simon. che farà anche la pasta asciutta uno di questi giorni e vedo con piacere che Simon lavora veramente bene e quindi io direi di non far attendere il nostro ospite perché poi sai se fai passare tre giorni dopo puzza e quindi i soliti problemi. e andrei subito a lanciare la sigla, la sigla fatta apposta dal Simon per la sua creatura che è questa e non quella di prima che era il promo. Pensate anche il promo. Topo, topo, aspetta. Dimmi Carlo. Tu metti quella del programma, della rubrica. Quella del programma, quella del programma, non temere, non temere. Vedi che anche io sono attento. Quindi questa è la tua creatura inizia da ora. Amici amici chiama Erasmus. E tanto ha chiamato che abbiamo avuto anche una risposta incredibilmente, incredibilmente, qualche d'uno è dall'altro capo del telefono, del cavo, del doppino, da quella di Valencia. Ma Simone, prego, prego, faccia pure lei, dottore. Beh, adesso poi faremo partire la sigla di presentazione, no? Quando vuole, quando vuole. Io la farei partire e poi lo presentiamo dopo. Va bene, va bene. Allora vado ancora a sfumare e questo è l'ospite, è la presentazione dell'ospite. È con grande piacere che vado stasera a presentarvi l'ospite che avremo con noi. Sono Sfondo Country che descrive la sua vera natura. Lui si chiama Carlo e fonti certe dicono si è andato in Puglia a vedere un ovelli, ma stasera lui è qui con noi perché ha Valencia in Erasmus che sta cercando il modo di dire ai suoi che non tornerà più a casa. E reduci da mesi di alcol e vizi, ma si tiene ben lontano dagli esami perché lui ci tiene la sua salute. È con orgoglio che vi presento il primo vedegnese all'estero, Carlo Pugliarelli. E' bello, è bello, è bello essere presentati così, Carlo. Se ci sei batti un colpo. Batto, batto, ci sono. Eccolo. Ci sente? Ah, vi ricordo che lui questa sera è andato a pagare l'affitto. È per quello che ha detto batto, batto. Eh, lo so. Gli affitti costano e... Sarebbe convenuto questa sera. Un introito ci vuole sempre, o davanti o di dietro come si dice. 142 euro. Quanto? 142 euro solo di luce in un mese e mezzo perché è da 70 anni che a Valencia non fa un inverno così freddo e quindi... E quindi per sentire meno la malinconia di casa. Sì, è il fatto che qua non ci sono neanche le case, non c'hanno l'impianto di riscaldamento e quindi le stufette elettriche ciucciano più del dovuto. Più di... Certo, amiche di collo, diciamolo. E se ciucciano. E se ciucciano così consuma un tanto. No, tra l'altro, te dicevi prima che Salmon ci farà anche gli spaghetti, ma io suggerirei per digerire dopo un bel chinotto. Un chinottino, o un moterino, eh, vabbè. Con la finezza che ti contraddistingue, allora, chiariamo subito, come abbiamo già detto, poi... Dicesi il chinotto? No, 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 come abbiamo già detto, essendo ormai un appuntamento, non dico usuale, questo del amici amici, chiama Erasmus, ma comunque noi chiamiamo sempre la Spagna. E la sfortuna vuole che quest'uomo, cioè l'uolo, in Spagna, sia diventato famosissimo per aver stravolto uno dei bianchi più buoni che la tradizione spagnola offre, che sono le patatas bras, che all'evenienza, anche a Valencia, attento Carlo, a non sbagliarti, perché il sottoscritto, cioè Gollup, ha inventato le patatas sbragas e l'errore con le cameriere. La patatas sbragas, ecco la lì. Ma, se vuoi, tu una volta eri moralizzatore di questo appuntamento. A te l'ospite, giovane. Guarda, io ormai non moralizzo più nessuno, perché si raggiungono dei livelli di umorismo quando si lascia andare. Comunque no, a parte la patatas bragas, noi abbiamo sempre sentito gente che arrivava da Barcellona, quindi adesso dovremmo capire se... Il paradiso è soltanto lì o se anche a Valencia si sta bene? Allora tu... No, no, secondo me si sta meglio a Valencia. Dici, ma tu a Barcellona ci sei stato? Beh, no, non per tanto tempo, di passaggio sì, però secondo me per divertimento costante è meglio Valencia. Benissimo, quindi qua si capisce subito perché la gente vuole andare a studiare in Erasmus, perché si studia meglio fuori città. Sì, fa curriculum. Ma ecco, fa curriculum. Ma dici, tu è un po' che sei via, perché è un po' che manchi in ingegneria, vedo i tuoi colleghi ingegneri che sono abbastanza scontenti della tua mancanza. Tu quant'è che sei via? Da inizio settembre, dal 7 settembre. Quindi diciamo che sono un po' di mesi, quindi ormai ti ce l'hai ambientato bene. I locali, l'Iconomoshi, parlaci un po', parliamo, allora visto che magari non so se ti ascoltano gente che è interessata veramente la tua cultura, che magari paga, dici un po' com'è l'università. Naturalmente su amiciamici.com l'ascoltano per questo, eh? Eh, si becchia. Fa curriculum anche per questa trasmissione? Eh, si becchia. Noi siamo affiliati alla famiglia cristiana e quindi... No, no, riguardo l'università, l'università è molto ben organizzata. Qua a Valencia sarà per il fatto che hanno un sacco di soldi, che hanno veramente un sacco di soldi a Valencia, e quindi hanno strutture molto belle e guardano molto al diversimento dello studente. Sembra strano a dirsi, ma per loro è molto importante, è vero? Bene, questo è... Ma di più si viene l'integrazione con gli spagnoli e poi comunque anche tutte le attività, dalle strutture sportive a qualsiasi cosa, è tutto gratuito. Non bisogna pagare niente. E scusate, ma per chi vede la webcam, ci siamo io e Gollo in webcam, ci mettiamo la faccia, quando ha sentito, è tutto gratuito, Gollo l'ho visto che ha fatto. Non quello che pensi te, cioè le attrezzature sportive, ma non quello sport, perché ti ho visto fare... Allora, se uno vuole fare la ginastica da camera, deve essere attrezzato di... Neanche non ricordo più. A trent'anni non si ricorda neanche più come è fatto quella attrezzatura. La ginastica da camera deve essere dotata di struttura deumidificata. Sì, va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. In caso di... Lo bacio, lo bacio e sta zitto. In caso di sudorazione, sforzo fisico... Ok. Qua ormai vi devo bloccare, perché sennò rubiamo tutto il tempo al nostro collega, qua il nostro ospite. La gente vuole ascoltarlo, la gente è arrivata numerosa questa sera. Ma allora... Senti anche che Bedogna ha un versillo, ha un portabandiere notevole in quelli di Valencia, perché siamo ascoltati, vizie. No, non parli bene, sì. Eh beh. E no, allora abbiamo parlato dell'università, gli esami ne siamo perdono, ormai abbiamo capito com'è. E invece per quanto riguarda l'abitazione, tu dove sei? Sei in un appartamento? Perché la gente che ci ha chiamato da Barcellona convive con 7-8 persone, anche 10. No, no, io faccio una cosa molto più calma. Noi siamo in tre italiani, tutti e tre. Quindi immagino che se ti chiedo di dirmi qualcosa in spagnolo... o hai imparato lo spagnolo? No, attende che cosa. No, 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 no. No, però comunque in casa ci passo il 10% della giornata, cioè vengo a casa a dormire in pratica. E anche a pomeriggio? No, no, adesso per ancora 10 giorni no che ho gli esami, ma dal 23 poi sì, saranno abbastanza poche le ore che trascorrerò in casa. Esami quanti ne prevedi? Eh, se tutto va come devi andare, arrivare dovrai darne 5. Beh, buono allora, questo ragazzo riesce anche a far convivere i vizi, come vizi ricordiamo il sesso, l'amore libero, le droghe, l'alcol. Sì, droghe, sesso, cose che fa stare tranquilli in famiglia, via. Il viagra. Beh, almeno il sesso, spero di sì. Oddio, magari non proprio tu che cazzo, sono tranquilli però. Sì, esatto. Dipende a chi fai, non puoi intervenire in diretta. Se ci fosse quell'angelo della sua ragazza io sto scherzando, eh. Sì, non lo diremmo mai se fosse vero. Eh, chiaro. Infatti. Plicheremmo se fosse vero, proprio. No, diciamo che allora riesci a far convivere lo svago con gli esami, questo te ne viene, bisogna riconoscerlo. Sì, sì, anche perché comunque non è per screditare l'università spagnola, ma in Italia sono molto più pretenziosi. Ah, quindi dici che comunque un po' si salta fuori meglio, via. Sì, sì, molto meglio. Allora, l'università com'è? Facile o difficile? Perché ormai si tenta di, pur di fare dei corsi, di mettere qualsiasi cosa. Allora, oggi mi hai detto cosa fai, ma non ho ben capito che cos'è. Beh, qua seguo l'ultimo anno, il quinto anno di ingegneria delle telecomunicazioni, che in quanto ingegneria non è facile, anche se è più facile certamente di qualche anno fa. Però l'ingegneria qua in Spagna è più facile che l'ingegneria in Italia, è sicuro. Beh, però l'ingegneria delle telecomunicazioni è comunque un'ingegneria riconosciuta e valida. Cioè non è la classica ingegneria che ha fatto a Parma, che fa il nostro amico Nocce. Nocciolina, che non so se conosci anche tu Carlo. Tu hai conosciuto Nocciolina? M&M's. Magari so il nome vero. Ehm, vuoi dirlo tu dopo? No, non lo possiamo dire e poi tra l'altro non ce ne sarebbe bisogno perché se l'avesse conosciuto direbbe comunque di no, quindi. Questo per il bene che gli vogliamo. Guarda, tutti conoscono M&M's. No, ma lui non è una donna quindi può essere che Carlo non lo conosca, tra l'altro. Ma te no. E no, questo ragazzo qua fa ingegneria, cos'è? Quello aziendale. Sì, quello... Sì, sì, c'è praticamente di... Ma ho saputo anche che a voi ingegneri, non so se a te te l'hanno fatto o se l'hanno fatto soltanto a Nocciolina perché hanno capito che c'era veramente bisogno. Ecco, bravo, svegliamo questo nostro interrogativo. Anch'io sono curioso. che nella facoltà di ingegneria esiste un esame, a crediti e basta, non a voto, che insegna l'ingegnere come porsi nel mondo del lavoro e praticamente dovrebbe dargli un'idea di come porsi... Cioè di togliere la timidezza che ha un po' l'ingegnere, no? Il fatto di essere un po' visto come lo sfigatello, di essere taggato come uno sfigato... Qua esce anche un po' il lato architettonico del Simon, eh? Eh, infatti, dipende le campane, magari l'ingegnere ti senti, salta fuori l'architetto sfigatello, dipende da chi parla. È chiaro, però guarda che io conosco di ingegneri, di su conosco te, Mancino, non mi sembrate persone sfigatelle, la classica figura dell'ingegnere non la rispecchiate. Però ce ne sono certi in facoltà che sono veramente... Beh, quello sì, però appunto, ti dico, secondo me, non è più l'ingegnere di una volta che era costretto a ridursi il sfigatello, perché se voleva finire si doveva tappare in casa, adesso non è più così, quindi ci sono sempre quelle persone originali, ma è un'altra storia da dieci anni spazio. Bene, questo fa anche piacere. E tornando alla Spagna, invece, cosa ci puoi dire dei tuoi mesi passati lì? La tua giornata, la tua giornata, perché è una domanda che facciamo spesso, perché abbiamo scoperto che in Spagna ci sono degli orari che sono un po' completamente opposti ai nostri. Sì, i miei non mi sentono perché loro non mi possono vedere dormire a casa, che alle nove si sentono i tacchi di entrambi, e quindi... In entrambi mi fa un po' paura questa figura qua di te. Sì, no, perché io non posso... perché io non posso usare delle scarpe particolari, perché ha dei problemi dei piedi, quindi sento quelle di tutti e due. Ah, ok. E quindi, no, ma le mettono in tanti, eh, sono scarpe rialzate, non tacco, però fa rumore, ve lo assicuro. A questo proposito salutiamo il Presidente, ciao Silvio. Adesso per un sottopiede innocente... Comunque... Non mi hai pensato? No, va bene, va bene. Scusate, scusate. No, comunque, niente, la giornata tipo, come si svolge? Guarda, sveglia più o meno dipende. Se la sera si sta in casa o si adientra presto, la sveglia è non prima delle undici del mattino. Bene. Poi tu un po' che ti alzi, ti colleghi un po' a internet e così si fanno le tre, due e mezza, tre e poi tiri fino a aspetti di uscire di sera. Però... Stimo, non mi ha chiuso a finestra. Ma la realtà di Valencia è come quella di Barcellona che si mangia all'età del pomeriggio, si cena verso mezzanotte. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, quella tutta la Spagna è così. Fantastico. Ma dimmi un po', come si chiama la birra piccola, quella proprio da bicchiere, da tipo baritallo via? Il bicchierino piccolo? Che domanda è? Bah, ma non... Vabbè, qua la chiamano una servessista, ma... Vuol dire, che vuol dire birrino, una birretta, non so, però... Dopo lo chiedo, perché l'amico che è nato in Spagna mi ha detto che si chiama Cagna. No, Cagna è... Beh, più che altro caraffa, una carra, una cagna, però non è piccola una cagna. Quindi una cagna è una cosa grossa? Magari era piccola per il tuo vita. E la cagnetta magari si era piccola. E la cagna in calore con la cagna? È una birra calda? Allora abbiamo capito che c'è la cagna, che è quella grossa, la cagnetta, che è quella piccola, e la cagna in calore, che è quella che quando la schiuma... Due litri di roba. Eh, vabbè, ragazzi. Eh, vabbè, però, eh, c'è sempre... Simo, fai la classica domanda delle tre cose che poi possiamo mandare. Eh, ok, ok, ok. Perché non è che è bello, eh, sta cosa qua. Eh, si faccia una domanda... No, ma è vero. Qui c'è la domanda proprio fatta apposta, per l'invitato. Allora, dopo che sono quasi quattro mesi, cinque, che sei lì, adesso non ho fatto il conto preciso, ma comunque è un po' che sei. Da bravo architetto fai sempre tutto a raffazzonate, eh, bravo. Beh, chiaro, non sono un ingegnere, io non sto... Il 7 settembre è difficile arrivare al 13 gennaio, eh, vai, vai, vai. Eh, ma guarda che è sempre difficile, comunque... Beh, farò i conti, aspetta, ci sto nelle mani, sì, otto, nove, dici. Eh, sono quattro mesi. Due mesi e sei giorni. Comunque, a parte questo, eh, se tu dovessi tornare domani a casa per una sfiga, non so, tuo padre decide di non darti più i fondi, devi tornare a casa per forza. Cosa ti porteresti dalla Spagna? Tre cose della Spagna, però ti dico, non tre cose materiali come potrebbe essere, cavolo ne so, una sede di casa, cioè tre cose in generale, anche dei consigli per l'Italia. Tre cose che hai trovato lì e che a casa tua, ma non a Bedogna perché sennò non basta. Sì, sì, altrimenti... In generale. No, no, beh, la prima cosa è il modo di prendere la vita, è totalmente diverso. Qua uno lavora per vivere, nel senso chiuso il lavoro, fa tutt'altro, cioè, è proprio il modo di porsi nei confronti del lavoro, lì tutti sembrano aiuto che... cioè, vivono per lavorare, qua il contrario, qua la domenica è chiuso, sono chiuso in chibar qua la domenica, eh, non è che dici... Quindi praticamente, se dovessimo paragonare l'Italia e la Spagna per questa cosa del lavoro, l'italiano vive per sopravvivere, no, lavora per sopravvivere e lo spagnolo lavora per vivere. Sì. Cioè, per godersi la vita. Sì, anche perché possono di più perché il costo della vita è molto inferiore, vabbè, togli il mio affitto, che è una cosa a parte, ho preso l'inculata del semestre, però per il resto, in generale, è molto più economico, a partire dalla spesa settimanale, che io la spesa che faccio qua, quello che pago qua per una settimana, non riesco a fare un centro in quattro giorni fa. Sì. Già questo li avvantaggia. Ok. Seconda cosa è la voglia di far festa, senza guardare in faccia se sei straniero o se sei di qua o di là. Quindi gli si fa amicizia molto facilmente. Sì, sì. Anche gli spagnoli sono un po' diffidenti, però non è paragonabile la diffidenza che c'è in Italia. Io per primo sono diffidente, davvero italiano, però qua per, beh, non dovevo essere diffidente e ho incontrato poca diffidenza nei miei confronti. Ok. Ma anche perché tu sei partito da un paese di montagna e sei sceso in una città dove la diffidenza te la danno da piccolo dentro gli omogenizzati plasmon. Quindi, potrebbe anche quello. Hai conosciuto tutte le sfumature della diffidenza. Io ricordo che otto anni fa mi sono messo insieme con l'Amarica e per sei mesi sono stato perseguito da bande bedonesi, da tutte le bande che c'erano. Capitanate da metro, no? Anche, anche da te forse, perché la scaletta mi chiamava, la scaletta come mi chiamava? La scaletta mi chiamava Lennon. Lennon. Eh, però non ricorda. Il Samarco mi chiamava... Invece la compagnia dello snack tentava di menarmi e basta. Non mi chiamava neanche in nessun modo. Si chiamava U. 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 Quindi sì, la terza l'hai conosciuta. E la terza cosa? La terza cosa... Vediamo... Beh, mi porterai a conoscitare le serate. Cioè, quindi... Tu hai improntato tutto sul divertimento. E beh, uno che va in Erasmus cosa devi improntare le... Beh, i tuoi colleghi di Barcellona... Di Madrid, scusa. Prima avevamo detto Barcellona, ma Madrid mi sono sbagliato. Eh, ma troppo io e non mi ascolti. Eh, vabbè. I tuoi amici di Madrid, i tuoi colleghi, si sono portati a casa anche il vino o... o qualche piatto particolare. Beh, però avevi detto di non menzionare cose... materiali, non le ho menzionate. No, diciamo che potevi menzionare tutto. Cioè, nel senso, non era per forza una cosa che stava in valigia o comunque una cosa... Qualsiasi tipo di cose. A parte che Gollo si porterebbe a casa una camionata soltanto di quella roba lì che... C'è quella roba che la ciaffo mette, c'è? Ecco, appunto. Ma c'è un piatto che ti piace particolarmente, che... Io tappo la bocca Gollo. Qualcosa che... Che le mani. Qualcosa che quando vai in un ristorante dici, oh, prendo quello lì perché mi fa impazzire. A parte la patata spraga, sai, che... No, ma quelle non le danno nei ristoranti, no. Io quando vado a mangiare fuori, se posso, mangio la paella. La classica paella valenziana, di Valencia, quindi... Perfetto. Con un litro di sangria. E li... Tere, topo tu vuoi fare una domanda? No, guarda, io sono a posto anche così perché Gollo ormai mi sta pungolando con un... con un vibratore da cemento, non è bello. L'ho sicuro. E quindi lo manderei veramente a divertirsi visto che anch'io ho avuto un'esperienza breve, molto più breve, a Barcellona e già è bastata per innamorarmene. Quindi, ormai abbiamo la conferma visto che abbiamo già sentito un paio di persone dalla Spagna che il prossimo anno io e il Simon, anche in assenza della mia ragazza e lo stimerei per quello, andremo in vacanza, in giro per Barcellona, Madrid, Valencia e poi eccetera eccetera non avremo limiti andremo in vacanza Gollo naturalmente lo facciamo a casa perché... E se andiamo via andiamo con la Panda, eh? Andiamo via andiamo in Panda, sì. Vabbè, quella... Però io direi che magari potremmo portarlo là in treno, la Panda perché se partiamo ci fermiamo sui Pirenei immediatamente, quindi... Certo, se passi sui Pirenei per andare in Spagna allora auguri, eh? Comunque... Tu dove vorresti? Vabbè... Ok! Salutiamo Carlo, lo ringraziamo Ti auguriamo una buona serata una buona giornata che torni anche per noi No, prima cena adesso bisogna andare a cena Ah, sai, è vero non abbiamo il fuso raro spagnolo, eh? Fra una mezz'oretta sì, ci siamo Sì, un po' all'ora che Simon va a letto ecco, diciamo così Sì Eh, me lo dicevo oggi Va bene io ti ringrazio a nome di tutti C'hai portato 8 visitatori non diciamo che due siamo noi due 8 visitatori è un record Però un totale di 24, dai Sì, vabbè, ma lì... Comunque... Niente Buon proseguimento di Erasmus Diverto Eh, speriamo Grazie Fai tutto quello che puoi fare anche se penso che ormai la tua filosofia è quella quindi l'avrà già capito Anche di illegale, naturalmente di illegale, chiaro anche perché se vivi una vita legale poi... Beh, ma qua in Spagna è difficile poter fare cose illegali, eh? Eh, lo so, anche io me ne sono accorto, sì Sì, mamma Eh, sì Tu cerca di farlo nel limite del possibile E... Noi andiamo in scontriando Delle buone situazioni Delle buone situazioni raccontare ai tuoi figli, eh? Ok E soprattutto di raccontare ai tuoi figli nati a Bedogna e non che magari ti arrivano dopo anni da là Oh, vabbè, dai Eh No, dai Speriamo Speriamo di no Ci voleva la cosa rassicurante anche per la ragazza, eh? Eh, no, infatti che è uno degli otto, eh, quello Eh, lo so, lo so Benissimo, benissimo Un saluto Stimo, Sorana Sì Ciao Ciao Carlo, grazie Ci saluto Eh, sì Ciao E noi E noi, visto che adesso abbiamo fatto tranquillizzare tutti Musica maestro? Direi di andare con un brannetto musicale visto che è una mezz'oretta che parliamo con Carlo e non l'abbiamo fatto nemmeno Ma l'altro hai visto che fisico asciutto che ho ultimamente? Sì, lo so Ti stai uccidendo di pip Lo so No, no, è merito È merito Delle artiste che arriva Di Robin Tim Sì, sì Silhouette Ah, perché dici che la silhouette aiuta Sì, io ascolto sto brano ballo, brucio i grassi smaltisco e diciamo riesco a espellere le tossine nocive grazie a Robin E pensate E quindi guarda un po' che fisicaccio che me ne trovo Eh, tranquillo Don't believe in the stories Or in things that you hear secondhand Cause they're never true And won't give you a clue And they won't help you to understand Is there God in the detail Or only chaos the closer we get So much more than a shadow Upon the cave wall Yeah, you've only seen my silhouette Don't assume that my songs all have meanings Are the things that I speak of are real They're only words that I once overheard And they don't always say what I feel So forgive me for any deceptions And for keeping my feelings inside Though there's no guarantees For the way I perceive For the way I perceive It was not my intention to hide Is there God in the detail Or only chaos the closer we get So much more than a shadow Upon the cave wall Yeah, you've only seen my silhouette Is there God in the detail Or only chaos the closer we get For only chaos the closer we get So much more than a shadow Upon the cave wall Yeah, you've only seen my silhouette 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 All you're seeing is my silhouette If you're seeing my silhouette Eh, sì ragazzi, qua si va alla grande È una puntata ricca e molto succosa Ci sta aspettando Anzi, praticamente la parte succoso è già andata, è già sparita Anche perché adesso il Simon è chiamato in causa perché nella sua ridente cittadina Ricordiamo che è Parma, se no nessuno verrebbe in mente di associare il ridente cittadina con questa località della pianura padana In quello che è la sua residenza, lì vicino alle tartarughe di mare Ninja, di mare si dice Sono tartarughe di mare, confermi? Ninja? Una sta dormendo ed è quella di fiume La di mare è sempre vigile perché lei ha, sono nata in cattività però è probabile che per istinto abbia ancora la paura degli squali Ah dici, dici che si sveglia Esatto, soprattutto vivendo con te vive nel terrore, anche di questo appuntamento del martedì sera, ricordiamo Allora, ci ascolta eh, però ci ascolta perché è fuori dall'acqua e si guarda Ho visto che si è tatuata il logo del sito sulla schiena e non è male Si, non si capisce niente però si Eh si perché c'ha colori un po' sfalsati Voi sai, ho usato dei colori dell'acqua per farglielo, no? Eh anche te Per risparmiare Poi il problema è che in acqua, chiaramente Chiaramente, quello che succede, succede Eh, direttamente dalla casa dove è andato in visita il nostro presidente napoletano Napolitano Così, cioè, casa di Simone, redazione, possiamo dire che è la nostra redazione esterna, dal nostro studio esterno Il Simon ha da raccontarci le cose belle della vita Cioè, quando un capo di stato visita una città È un po' come quando passa il giro d'Italia da noi Bisogna andarla a vedere Dimmi scusami No, dico, bisogna andarla a vedere Quando passa il giro d'Italia vicino a casa, tutti ci vanno, no? Ecco, o si butta l'olio sull'asfalto O il ghiaione O se no Perché alla fin fine, alla fin fine funziona così, no? Cioè, a nessuno frega un cavolo del giro d'Italia Però se ti passa davanti a casa, tutti diventano amatori del ciclismo E scendono in piazza con il berrettino della gazzetta dello sport Terribile Tutti i gadget possibili, immaginabili Uno l'ho visto perfino con la maschera di Bartali E dite, guarda che Bartali è un povero che non c'è Esatto, ma fino a qualche anno fa Quando ero ancora in vita a Bartali Bartali, lo sai che passava in una cabriolet Salutando come se fosse la regina d'Inghilterra, eh? È chiaro Comunque, se vogliamo tornare al Presidente della Repubblica Torna, torna Devo dire che non c'è stata una grande campagna di informazione Soprattutto su internet Diciamo che per quanto riguarda i telegiornali nazionali se ne è parlato fin troppo E se non fosse che la visita di Napolitano è andata in... Cioè, la visita di Napolitano a Parma era da un po' che si sapeva che ci doveva essere Infatti io dovevo essere tra i reporter più importanti Solitanto che me la sono fatta sfuggire Eh, esatto, merda, dicono Ecco, infatti Toppino non me l'ha ancora detto Ma lo so che lui mi odierà per questo Però almeno fino alla prossima visita del prossimo Esatto Bravo, vedo che capisci Potremmo andare in America, che fra 7 giorni Ma cosa dico prossimo? Eh, non si dico legato Non ha capito, va bene Ti dicevo, Simone, adesso per punizione andrà in America Che fra 7 giorni c'è il cambio ufficiale del presidente E come reportage quello per farti perdonare Eh sì, eh sì E poi scriverò amiciamici.com Sulla casa bianca Sulla casa bianca Sul tetto Che è già bianca, quindi lì è più facile che con la tartaruga Eh Sì, però lo scriverò in bianco per non dare troppo nell'occhio Esatto Io metterei nero su bianco invece, prima di... Eh, a proposito di nero su bianco Ecco, non ci arriveremo mai in fondo Come al solito No, vabbè, allora la dico dopo Dai lo stesso No, no, dille, dille No, è una cosa brevissima No, è una libreria a Parma Ok, dille, dille C'è una libreria universitaria a Parma Che raccoglie i libri dell'università Deve avere l'università Per dire quanto siamo E te lo fotografo, eh Perché qua ci voglio fare un articolo Per dire quanto siamo noi Considerati a Parma come facoltà di architettura Tutte le università sono scritte Con un colore su un altro Il nuovo tipo in generia è scritto bianco su rosso Beh, è bello L'architettura è scritto nero su nero Eh beh, è giusto Tu vedi una striscia nera Sembra cancellata Tu vai vicino Legge l'architettura Perché l'hanno incolato male Quindi Fantastico Bellissimo È proprio perché l'architetto È andato a ricercare Quelle nuance di nero Particolari Perché con un gioco di luce particolare A mezzogiorno Così Con Sirio ben luminosa nel cielo A fianco al sole In realtà è quanto Capita un giorno all'anno Durante le equinozze d'estate Di notte Comunque, a parte questo Napolitano è stato in visita a Parma Pochi giorni fa Intanto sta leggendo la gazzetta Beh, è chiaro Sta leggendo la Repubblica La Repubblica che ormai è un mio bastone Un giornale contro, tra l'altro Questi qua Cioè hanno Per me la Repubblica di Parma La Repubblica sezione di Parma Ha avuto un torto incredibile dal comune Perché sono incazzati Che ogni cosa ci danno dentro Quando con Bonsu Ce le hanno dette Bastardo Vaffanculo Proprio usavano termini pesantissimi E li stimo anche per questo E comunque sul web Come mi piace questa parola Web Sì, volevo chiamarci mio figlio Sono stati quelli Che Io lo volevo chiamare browser Però poi Vabbè, comunque Sono stati quelli che hanno fatto L'articolo più completo E l'hanno fatto per tappe Cioè a partire dall'attesa Degli uomini in nero All'aeroporto di Parma Alle 17.01 Immagino il casino all'aeroporto Eh sì Gente che si spintonava Che pogava Eh sì Poi tutti gli altri passeggeri Degli altri aerei Ricordiamoci che per l'emergenza neve L'aeroporto era chiuso Secondo me hanno fatto nevicare apposta Perché arrivava Napolitano Per avere l'aeroporto chiuso Solo per lui Comunque E soprattutto con questo Con questo stato di terrore Che l'aeroporto era chiuso Quindi era sicuramente sgombro L'hanno prelevato C'è scritto così Prelevato dall'aereo Infilato dentro una lancia Tesis blu Occhio nella descrizione E portato direttamente Dalla pista Scortato da motociclisti Della stradale Che sul ghiaccio Andavano e madonnavano Come lo Yeti In funne di Sara Che non si saranno divertiti Mai così tanto Un cazzo Perché l'hanno portato Verso la prefettura Adesso Io vorrei trovare Il percorso Che ha fatto Napolitano Con la macchina A parte che sicuramente Questa tesi splu Avrà avuto i vetri Non Quelli Oscurati Ma Antiriflesso dall'interno Che lui C'è specchiato dall'interno Che lui fuori Non poteva vedere Assolutamente Perché Parma È stata criticata Che ha criticato No Giudicata Dai telegiornali nazionali Come la città Che ha attuato Il miglior piano antineve D'Italia O comunque E ricordiamo Che la tesi Si era catenata Da tanti e dietro Ah guarda Ci credo Ha speso 450 milioni Di euro Per un piano antineve La madonna Tutti in una giornata No In tutto il periodo Solo per Le pulizie E la rimozione Della neve Dal matto stradale In Parma In provincia Hanno speso appena Quei due soldini Interesante Si E che comunque La toglievano Da una strada E la portavano In un'altra Perché il problema Che c'è ancora Tutta la neve Che è caduta C'è ancora Era il piano di rimozione Non è più sotto il forno Non di estirparla Al cento per cento Era di rimuoverla Poi dove la mettono Se la fai È vero Ma è un po' Il problema Che hanno avuto A Napoli Quei rifiuti Cioè Lo rimuovi Poi rifiuto Non sai dove metterlo Lo butti da un'altra parte Lo rimuovi E lo riporti Giustamente Se non rifiuto Fatto sta Che la soluzione Del quesito È questa Che hanno pulito Alla perfezione La strada Che doveva percorrere Questa Tensis blu Quindi Napolitano Ha avuto la percezione Che Parma Si è stata Perfettamente pulita Quel giorno lì Molto probabilmente Quel giorno lì Se non qualche giorno prima Io mi sono svegliato Alle otto e mezza E fino alle dieci e un quarto Ho sentito Vabbè abito vicino all'ospedale Però ho sentito L'ambulanza Squillare Sirenare Per due ore di fila Perché Ci sono stati C'è stata più gente Che volava per terra Quel giorno lì Che in altri Quindi vuol dire Che la strada Non era poi così tanto Pulita bene Comunque A parte la polemica Sull'emergenza neve Esatto Che giustamente Capiamo bene Che dove è passato Come quando Passa il giro d'Italia Dove si fa l'asfalto Più bello Con le strisce Fate Tipo anche quando Passava Cosa passava Ad aprile Maggio Che di solito Non è il periodo Di fare gli asfalti Non lo vedi da nessuna parte Le strisce le fanno dopo Il giro d'Italia No le strisce le fanno prima Perché poi vai più forte Vedi che già non capisci Com'è il doping moderno Le strisce Se ce le fai dopo Non vale un cazzo No no ma Diciamo Adesso Parlavo della segnaletica Eh sì Le facevamo dopo Perché passava il giro d'Italia Sì perché Appena fa Appena fatto È lucido come uno specchio E è successo Guardate la faccia intanto Inebbetita Del Simon È successo In precedenza Anni fa Che molti Molti Ci sono proprio Ribaltati Perché andando Sulla strisce La verniciata di fresco Sono decollati Ci sono fatti un male cane È per quello che adesso Gli ho verniciato di bianco E non di fresco Esatto Certo Simon non ti buttare giù Dalla finestra Ma che nevica Nevica molto bene Ma che due coglioni Figlio Ma che due coglioni Simon anche te Dovresti essere contento L'ultima volta Che mi hai dato Una notizia da Parma Era oddio Il terremoto Sì no no È vero È vero Che gli ho detto Poi soprattutto Facciamo il testamento online Se per caso Succede qualcosa di brutto E comunque Volevo dire Era una battuta Cioè Cerchiamo di A parte che io Non ho mai capito Perché il doping Si chiama doping Se lo fai priming Non potevano chiamarlo Priming Eh no no Ti batto le mani Perché qua non ti controllano Doping Esatto Ah ok Io ho veramente voglia Di passare una canzone Sì anch'io Voglio anche di metterti La lingua in bocca Tra l'altro Ma questo non subito Facciamo finire Simon Ah certo Sì finiamola Perché io non porterei Il presidente napolitano Fino al quarto brano Cercherei di tagliare No Al quarto brano Anche perché ci sono argomenti Di cronaca Di cronaca molto più importanti Come l'inizio del grande fratello Esatto E la sesta misura E la sesta misura Della maggioranza Perfetto Parlando di maggioranza Sai maggioranza È una parola Che Comunque Praticamente Giorgio Napolitano È partito Dall'aeroporto Dalle 17.23 Vediamo quanto ci ha messo Dalle 17.13 È partito È arrivato Alle 17.35 In prefettura Cioè vuol dire Che anche sulle strade Perché a Parma In un quarto d'ora Dall'aeroporto Fino alla prefettura Non ci arrivi neanche Se c'è un jet privato Esatto Perfetto Poi alle 17.45 È deciso di andare A rompere i coglioni I ragazzi Della quarta Di Del Maria Luigia Che alle 17.45 Non ci sarebbero mai Sognati di essere a scuola È però È arrivato il presidente Ci sono dovuti essere Perfetto Un presidente Non può attendere Ragazzi Ma poi è interessante Perché l'articolo È stato fatto Con gli appuntamenti In maniera decrescente Cioè praticamente Sono partiti Dall'ultimo appuntamento Della giornata Cioè dalla cena Per arrivare All'arrivo Di Napolitano All'aeroporto E l'avrà scritto Man mano Che succedevano le cose Eh probabilmente sì Però Non Va bene Andrei a vedere Di persona l'articolo E mi dirai le tue Va bene Conclusione Andremo Andremo a testare E' andato a Stringere la mano Al vescovo Il nostro Caro vescovo Che non è il vostro Caro vescovo Ma è il mio Vescovo Il mio è delle due tartarue Qua dietro Il caro Enrico Solni E' andato a stringere la mano E' andato a stringere la mano Perché non c'ero io Ovviamente No capito E comunque è andato così a vedere La mostra del Correggio Sicuramente lui non ha fatto la fila Chiaramente Sicuramente non ha pagato il biglietto Lo vogliamo dire Chiaramente Ma chiaramente Sicuramente Allora L'altro giorno C'era un servizio Sul telegiornale Dove diceva Guardate il nostro presidente Con che mezzo Va in giro Che lui Ci si aspetterebbe Che giri Con una macchina Da un sacco di soldi Invece guardate Con cosa va in giro C'era una La Peccar Che lui diceva La Peccar Costa poco Vaffanculo La Peccar Restaurata La prima versione S'era costato 400.000 euro Quella Peccar lì Bellissimo Stupendo Già la Peccar Anche quando era nuovo Era bello Poi immagina Restaurato Restaurato Ma fantastico E' più allungato Con dietro Rifinitura in lene Si Ma è meglio Che ti copri una Ferrari Che bella figura Comunque L'hanno poi Portato Verso La pilota E hanno avuto Dei problemi Mi dispiace Mi dispiace Hanno avuto Dei problemi Di traffico In via Repubblica E lì un po' Si è scocciato Napolitano Perché Aveva appena visto Le meravigliose Le meravigliose Opere Del correggio E quindi Poi ha dovuto Sostare In via Repubblica Si è un po' Scocciato Infatti C'era C'era il problema Perché c'era Un grande traffico Di autobus Della Teppe C'era un sacco Di gente Su questi autobus Che facevano Con la manina Napolitano Però Napolitano Aveva gli specchi Dall'interno Non li poteva vedere Si vedeva lui Alla fine Ha visitato La nostra galleria nazionale Che consiglio A tutti Di andare a vedere A tutti 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 Anche se non sono Presidente Della Repubblica Di Non so Quale paese Di pagare C'è costo No? Eh C'è costo Un biglietto Ma quelle nuove Di Trenitalia Quelle gallerie Dici? Si Le gallerie nazionali Di Trenitalia No La galleria nazionale Di Parma È veramente bella E ricorda a tutti Che magari Non si sa a volte Che abbiamo un quadro Di Leonardo da Vinci Quindi andiamola a vedere E mica la carina A parte quello Poi alla fine Hanno finito Ancora con il Vescovo E poi sono andati A farsi una bella cena A Pizze Fichi Alla trattoria Gigi Il Troione In via E alle due di notte Rave Party Rave Party Trova la puttana Nel armi Avevano chiesto Avevano chiesto Per lo sporcaccione Che è un noto ristorante Dove si mangia La fogna Anche quello La classica cucina pulita No? Però non c'era a posto Allora E possiamo mandare un brano O oggi abbiamo deciso Di fare interventi Da 7-8 ore Finché ne rimarrà Soltanto uno vivo No Io ormai Manderei un brano Viva Marto Tu verrai con Se no possiamo raccontare Per filo per segno Ogni sogno Che ha fatto Napolitano Mentre tornando a casa In aereo Si faceva la pennica Tra l'altro Ma ha fatto la pennica pomeridiana Che ha una certa età E dove è andato in bagno? E ha fatto solo pipì O ha fatto anche la cacca? Perché è un umano come tutti No? Ma non lo so Allora c'è da dire una cosa C'è una foto qua Dove c'è Vignali C'è il Come si chiama qua? Bonsu E insomma E hanno tutti una fascia Puttane stese in terra No Cioè di solito Da Parma Vengono quelle foto lì Pubblicano quel genere di foto No? Quindi Puttane Testaggi Non lo fanno più entrare in nessun ufficio pubblico Quella stessa lì Ma è vero che anche entrare in comune Non c'è più il metal detector C'è un sistema che rileva i vetri delle lenti delle telecamere Anche quelli dei cellulari Che ne suona Che cazzo fai? Hai una macchina fotografica? Cosa pensi di fare? Sai mica grande fratello? E quindi non si può più entrare con le macchine fotografiche Poi entra un terrorista con un mitragliatore però Così no E quello lì Finché ne... Se non ci sono foto da pubblicare Puoi fare quel cazzo che ne voglia eh Comunque dicevo che lui non aveva bisogno andare in bagno Perché La maggior parte A te te ridigi no 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 Aveva una fascia Di quelle sai da sindaco O da miss Lui non ce l'aveva Ma ne aveva una Alla vita Da pannolone Tipo un marsupio Tipo un marsupio Con la pompetta Quella che quando vedi una bella signora Gonfi Manda pure un brano Va che ora vado a prendermi un po' d'acqua Perché sto... Alle tue volontà carissimo Grazie mille No no niente Intanto facciamo dire al cappellone A che il titolo intanto ci sia Eccola signorina Eccola grandissima No Eccola signorina che noi conosciamo già La Melissa Ferrick Sì Con Hirtbeat Non avremmo già passato questo brano No 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 secondo me Io volevo Volevo cogliere Questo intro Per salutare tutti gli amici Che ci hanno ringraziato da New York Per aver passato i vari brani E sono stati carini E hanno ringraziato perché È molto giusto E quindi speriamo che anche Melissa Te la di con due i Speriamo che me la invii Te te la invii E noi inviamo lei It's a giant waste of time Cause the heart keeps pumping Without the mind And I'd like to feel your heartbeat I'd like to feel your heartbeat Yeah I wanna feel your heartbeat Next to mine Oh I wanna feel your heartbeat I'd like to feel your heartbeat Oh I wanna feel your heartbeat Next to mine So imagine me Imagine you You've got a red wine high With your hair falling down your spine And you are making beauty Out of highway miles With that smile Come on So come on Come on Come on Let's take this ride Out to the seaside We could walk a moonlit mile And we could try to make it Last a while Yeah And we will kiss for hours On a wooden floor And both go to sleep When we both don't want more We will fall Into each other's arms We will fall We will fall Yeah I wanna feel your heartbeat Oh I wanna feel your heartbeat Yeah I'd like to feel your heartbeat Next to mine Oh I'd like to feel your heartbeat I wanna feel your heartbeat I wanna feel your heartbeat Oh I wanna feel your heartbeat Next to mine So come on Come on Come on Show me yourself Open up your eyes This is your life And this is me Walking in This is me Walking in I'm walking in Walking in Walking in Eccoci ragazzi La Melissa La Melissa Salutiamo la Melissa Quella gran signora della Melissa E andiamo un po' All'ultimo Nostro appuntamento Per questo podcast Ricco Ricco Pregno E fregno Anche di argomenti E fregno Ora che Simon Si è anche andato A rifocillare O a dare da bene All'assettante Come dicevo Un mio amico Che mi assomigliava Una volta Prima Di sulla croce Diciamo Perché E' una verità storica E' una verità storica Cristo ma Dimmi Niente Ah No pensavo che mi chiamasse Benissimo Simon sei tornato Alla fine di questa puntata Che ormai diventa lunga Come la quaresima Siamo già a un'ora E ci manca Un coro Un brano E i saluti finali Andiamo soltanto A ricordare Quanto possa essere triste Intanto che Simone Vedere Simone Ci muore Ciucciare Da una bottiglia Ma quanto possa essere triste Questo periodo Post festività Natalizia Mamma mia Perché io Già da ieri Mi sono accorto Come Bedonia Fosse un paese Disabitato Tutto Chiuso Tutto triste Tutto taceva E il gollo Mi lavorava In quel di Borgotaro Dove tra l'altro Sono stato io Oggi pomeriggio E se Mi devevo Mi dovevo Diciamo Sbilanciare Sul fatto che Bedonia La neve La neve Era stata tolta Via Un po' In ritardo O in malo modo Io consiglio Tutto andare A Borgotaro Perché auguri Carissimi Hanno veramente Sgomberato La neve Come faceva Un mio amico Cazzo di cane Cazzo di cane Un po' Come Paolo Di canio Ha questa fortuna Di portare Questo nome Qua Altisonante Nome anche Doppio Se vogliamo Un po' Da re Che solo re Nobili Hanno Ma il signor Cazzo di cane Ha veramente Insegnato A sgomberare La neve A Borgotaro Nonostante Ci fosse già stata Una polemica Anche l'anno Passato Sul fatto che Il sindaco In persona Unito di badile Si sbadilava Davanti a casa E sempre Nani e ballerine Lo aiutavano In via nazionale Molto meno Invece Simon ci ha raccontato Che anche a Palma È stata una Una tristezza Con piano Se lo andate a vedere È abbastanza pulito Molto bello E pubblicheremo Anche le fotografie A Roma E abbiamo scoperto Anche quant'è Circa Il costo Di uno spartinere Che fa un giro Io l'ho scoperto Ad esempio Pulire All'interno Delle vie Di compiano E poco più Costa 500 euro Diciamo Una persona Su un trattore Fa un giro Ma non fa Non è a chilometro A risultato O tiene sgombra La strada La neve Cioè La strada Non ha più neve Io ti pago Così no In realtà Io faccio un giro Indipendentemente Da quello Che succede Dopo che ho fatto Il giro Mi prendo 500 euro Diciamo che Questo è un po' Il prezzo Io ti posso Anche dire Il prezzo A chilometro Perché E sarà 250 euro No 45 euro E chilometro Bisogna vedere Se si parla Di strada provinciale Quanto è lungo il giro Con che mezzo Viene fatto Eccetera Di solito Avessi con un man Da 450 cavalli Una bena Di 4 metri e mezzo Quadrati Per far salire Il budget Basta rifare Lo stesso giro Cinque volte Puoi andare Anche a Gioia Tauro A prenderti un caffè Intanto che sei Lì Ma è di una maniera Nei termini comunali Per rispettare Quella lì La paura Per fare 4-5 volte Perfetto Detto questo Oggi Stiamo registrando Ancora per poco Sarà Sant'Ilario Simone E tu non fai Un cazzo Per Sant'Ilario Vergogna Io chiaramente Chiaramente le feste Le vivo un po' Come tutti gli altri giorni Esatto Un po' noi Che viviamo di eredita Siamo costretti Siamo condannati Anzi A vivere una vita così Dove non si sa Che giorno della settimana è Vedete Io non so Non mi faccio la barba A volte me la faccio A volte mi faccio Simone A volte mi faccio Collo Pensa che la mia di barba Si fa da sola Esatto Pensa che io Non devo neanche farla La barba Perché non ce l'ho Tu non devi assolutamente Toccare quella grande Scultura di arte moderna Che ti è sulla faccia Cioè il pello Unico pello di barba Ah si Che è un po' quello col tingo Tra l'altro Ricordiamo che anche L'UNESCO Adesso sta studiando Se farlo o almeno Rientrare Tra le meraviglie Dell'umanità Io spero di no Perché se no Non posso più cercare Ma più che il pelo di barba Non sarebbe meglio Il pelo di buoi No il pelo di barbara Si non so Tra l'altro Prima che Simone intervenisse Non l'ho voluto interrompere Ma quando tu hai detto Che la tua barba Si fa da sola Volevo dirti appunto Che tu hai un po' di tempo Che ti fai da solo La mia barba Non so le vostre Si fa da sola Io mi limito a tagliarla Così una volta C'era una pubblicità Che il forno Lo pulisco io No il forno Si pulisce da solo Molto Si fa il cazzi Si accende Si spegne Fa tutto lui Allora abbiamo snocciolato Velocemente Questa ultima tematica Se qualcuno vuole parlare Parli ora Non parli mai più Perché A parte il titolo E l'autore Del prossimo brano Che non si pensano Se è un uomo Una donna Comunque lo stesso Non sarà un gruppo Faremo soltanti saluti Così andiamo poi A salutarvi Dopo l'ultimo brano Che è 4 minuti E a me non ci spaparanziamo Perché ormai Le mie corde vocali Assomigliano di più A dei travi della luce Bene Ma non hai detto niente Stasera ho parlato solo io E Pugliarelli Ma infatti sono così Proprio perché sono Non sono Atrofizzato Utilizzate Io avevo fatto anche i gargarismi Col topic Io credo che non si Cioè Visto che hai iniziato Il grande fratello Io chiuderei la puntata qua Manderei l'ultimo brano E poi saluterei tutti Eh sì E allora io ti seguo Grazie a tutti 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 Tempo permettendo A martedì a tutti A martedì ragazzi